e benvenuti a tutti amici cripto curiosi not coin ragazzi sembra che questo asset si sia risvegliando come possiamo ben vedere anche nel grafico agli ultimi sette giorni su coin market cap ma che cosa sta succedendo effettivamente a questo asset ragazzi sappiamo benissimo che not coin è un asset creato sulla chain di ton di ton chain ne abbiamo parlato in altri video in questo canale quindi andatevi a vedere magari altri video se volete sapere che cos'è più nel dettaglio not coin l'abbiamo visionato dal momento del suo lancio dal momento i vari minting su degli exchange eccetera asset che era diciamo a una market cap appena stato listato sui vari checks allucinante poi ha fatto un crollo diciamo pazzesco e ad ora in questo momento io stavo visionando stavo rivedendo not coin ragazzi ha fatto diciamo un movimento veramente strano quindi andremo a vedere ora che cosa sta succedendo all'interno del grafico anche perché l'open interest è ben aumentato del 14 per cento e andiamo a fare il refresh della pagina ragazzi 14,99 per cento sta crescendo sempre di più anche a volumi ragazzi come possiamo ben vedere le ultime qui sul grafico coin market cap nelle ultime 24 ore ad adesso sono aumentati ben 75 quasi 75 per cento anche la market cap acquistato punti del 14,83 per cento e stiamo assistendo a un gain importante e diciamo interessante andremo a vedere in questo video prima di tutto ragazzi vi ricordo non è assolutamente un consiglio finanziario nell'investimento né di trading attenzione ragazzi soprattutto quando ci sono questi movimenti assurdi perché effettivamente sembra che stiamo proprio nel vivo di questo movimento riguardo not coin e che c'è da dire ragazzi wallet telegram questo asset praticamente all'interno del wallet tg lo possiamo scambiare mandare quant'altro è un token che si basa è un token game token ok che si basa su un biogioco in web 3 e quant'altro ma l'abbiamo parlato negli altri video quindi in sostanza qui c'è tutta la tokenomics di not coin non lo andremo a vedere però stiamo effettivamente assistendo a questo rally quindi andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa sta succedendo prima di iniziare però vi voglio ricordare la presale di dogeverse vi lascio il link qui sotto se volete andarla a visionare ragazzi naturalmente stiamo parlando di presale ma sembra che l'asset in questione venga listato i primi di giugno naturalmente con tutti i rischi associati riguardo le prese le fate molta attenzione ma andate a visionare vi lascio il link qui sotto veramente molto interessante ha preso veramente piede nel mondo cripto questa presale diciamo allora ragazzi not coin effettivamente che cosa sta succedendo allora abbiamo visto questo asset dai vari listing e quant'altro dopo naturalmente chi aveva fatto minting di questo di not coin è andato a rivenderlo subito naturalmente sappiamo benissimo che appena ci sono i vari airdrop minting e quant'altro gli utenti vanno a rivendere provocando quello che è successo come abbiamo visto qui quindi provocando diciamo dai massimi appena c'è stato il listing e vendiamo questa shadow infinita però andiamo a prendere dalla dalla chiusura giornaliera è praticamente arrivato ai mai ecco qui ai minimi di giornate e ha fatto un meno 40 virgola 85 per cento all'incirca questo è stato il trend fino ad ora di not coin infatti molti stanno gridando ancora come gridavano dato che la community ragazzi è enorme not coin telegram ora andiamo a vedere un attimo così non ce l'avevo aperto non vederlo not coin community ragazzi stiamo parlando di una community effettivamente di 6,86 milioni quasi 7 milioni di utenti ragazzi una community abnorme ok quindi che cosa è successo che molti hanno gridato allo scam tutto è uno scam not coin eccetera e quant'altro però naturalmente qui gli utenti come vi ripetevo prima anche hanno partecipato a vari airdrop e quant'altro naturalmente hanno venduto hanno venduto hanno venduto provocando il crollo del prezzo e appena diciamo è stato listato ci sono stati dei volumi pazzeschi ora non ricordo effettivamente quanti volumi erano ma erano dei volumi allucinanti andiamolo a rivedere un attimo stavo parlando di ecco appena c'è stato i vari listing e quant'altro è arrivato anche oltre a un miliardo di dollari quindi in pochissimo tempo ragazzi ora siamo a quasi 200 milioni di dollari sta aumentando perché effettivamente ci sono ci sta c'è un movimento grosso che può portare alla fine al bottom per questo asset ragazzi naturalmente non siamo indovini non lo sappiamo però effettivamente ora l'asset si sta avvicinando a questa importante resistenza che si era creata dello 0,55 ok diciamo 0,55 ci siamo arrivati comunque si sono create varie resistenze ora lo vedremo meglio anche sul grafico orario che cosa sta succedendo resistenze importanti anche qui dello 0,60 0,0065 poi abbiamo quest'altra naturalmente della chiusura giornaliera dello storico appena c'è stata ci furono stati i primi listing dello 0,0075 ora vedete ragazzi anche sul giornaliero stiamo assistendo a diciamo a un pump effettivamente perché siamo sostenuti anche ad ora a una certa importanza di volumi effettivamente ora stiamo assistendo a questo pump possibile rottura diciamo di questa resistenza qui ma andiamo a vedere nell'orario andiamo a vedere nell'orario allora nell'orario lo possiamo vedere benissimo ecco quello che è successo a questo asset quindi ragazzi bottom in questa fase diciamo nella giornata di ieri ok qui relativo bottom ragazzi guardate che ora questo asset effettivamente nelle ultime ore che cosa ha fatto in sostanza trend line rotta andiamo a fare una trend line ecco qui un pochettino più precisa prendiamo dai massimi recenti ecco qui diciamo che il trend al ribasso che c'era tutto questo bel trend qui al ribasso sembra proprio che ora abbia rotto definitivamente sembra ragazzi ok naturalmente dalla trend line il prezzo ha rotto al rialzo segnalando un più 5 per cento andiamo a a prendere dai massimi più 6 per cento poi il prezzo ha respirato in questa fase di congestione di congelamento di lateralizzazione chiamatela come volete per poi andata a rompere di nuovo questa trend line che si è formata nel breve naturalmente chi fa trading su questo asset ha capito benissimo che cosa sto disegnando per farvi capire e ora sembra che il prezzo si stia dirigendo su questa fascia qui ok stiamo parlando di una zona di resistenza ok contenuta diciamo ecco qui per essere più precisi dello 0,0059 quindi anche soia un pochettino psicologica da 0,6 andiamo a mettere sullo 0,6 ok così e sembra che il prezzo si stia dirigendo per andare effettivamente a rompere siamo sul grafico orario vi ricordo queste zone di resistenza lo farà non lo farà naturalmente non lo sappiamo quello che possiamo vedere è che i volumi diciamo della seconda candela oraria di un'ora fa ragazzi sono eccola qua come vedete sono importanti ok quindi questo ci dà diciamo il campanello dalla il campanello d'allarme sì che il trend effettivamente potrebbe essere cambiato ok potrebbe anche essere una bull trap ok quindi in sostanza attenzione andiamo sul giornaliero ragazzi sul giornaliero per vedere no andiamo ritorniamo sull'orario scusate possiamo vedere zona rsi di super estesa parliamo di 77,76 punti momentum che ci va a indicare effettivamente una forza una grossa forza su questo uptrend in sostanza ragazzi questo è lo scenario per not coin in quest'ultimo momento perché naturalmente stiamo facendo questo video per andare a vedere effettivamente nello specifico cosa sta succedendo ok perché sembra proprio che questo asset da questa zona dormiente si stia provando a risvegliarsi open interest andiamo a rifresciare un'altra volta la pagina aumentato 17.41% a mano a mano aumentano anche i volumi ragazzi stiamo parlando di quasi 500 milioni sui volumi di fatti troviamo questo token subito listato su binance naturalmente ok capibile not andiamo a vedere le zone dove di prezzo dove il pezzo può trovare maggiore liquidità ragazzi stiamo ecco qui stiamo parlando che troviamo 681 miliardi nelle zone dello 0,0046 e molte zone di liquidità intorno a questo valore dell'asset e più sopra troviamo quasi lo 0,005 molti miliardi ok quindi in sostanza se il prezzo dovesse ritornare giù andrà andrà a pescare questa forte ma forte liquidità quindi c'è da fare attenzione ragazzi perché effettivamente potrebbe essere una bull trap oppure no ok però naturalmente abbiamo forte zone di liquidità qui ragazzi ok quindi un attimo andarle a ripescare qui in queste zone qui ok quindi un attimo che bam va a pescare liquidità per poi effettivamente rompere quindi bisogna fare attenzione a quello che sta succedendo attenzione alla FOMO attenzione alla FOMO intanto sulla community di Binance Square naturalmente sono in FOMO per quanto riguarda NOT le unità entusiasmanti questo un post di due ore fa eccetera 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 quindi ragazzi naturalmente ora le notizie naturalmente saranno intasate per mettere FOMO e quant'altro detto ciò amici siamo arrivati alla fine del video video flash fatemi sapere cosa ne pensate di questo asset se vi fa schifo se vi piace se lo state visionando se potrebbe effettivamente per chi va a holdare in queste zone e poi aspettarsi una bull run senza precedenti per questo token me lo faccia sapere nei commenti così ci confrontiamo e ci confrontiamo tutti quanti detto ciò ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un bel like al video ciao a tutti grazie a tutti